Giorno speciale per il centro guide di Arezzo, la festa per dieci anni di attività e poi la nuova prestigiosa sede all'interno della Casa Museo Ivan Bruschi, un connubio che potrà rafforzare le attività di incoming e di promozione del territorio. Siamo molto molto felici di questa collaborazione, chiaramente siamo qui nel cuore di Arezzo, il cuore pulsante di questa città che ha tanto da esprimere ancora a livello turistico e fieri di questa collaborazione con la Fondazione Ivan Bruschi, quindi anche per progetti nuovi cerchiamo di fare la nostra parte in questo scenario. Siamo già partiti con diverse iniziative, tra cui il nostro storico Scopriarezzo ci piace adesso farlo finire proprio qui, in un punto dove si può vedere dettagli della pieve di Arezzo che sicuramente da basso non si possono apprezzare, quindi veramente felici di tutto questo. In questo momento festeggiate anche i dieci anni di attività del centro guide Arezzo, come è cambiato il modo di accogliere i turisti, sono più esigenti, insomma che cosa serve? Il turismo sì è diventato più esigente, non basta soltanto presentare un territorio, ma oggi vogliono conoscere proprio le cose più intime di un territorio, il DNA, e quindi noi ci fa piacere avere la possibilità di portare sempre in un focus dettagliato su particolari che sicuramente senza una guida professionale non sarebbero sicuramente colti. Un connubio che rafforza ancora di più i progetti di incoming, di accoglienza nel territorio? Assolutamente sì, la fondazione da luglio di quest'anno ha deciso proprio di ospitare questo importante gruppo di guide turistiche, ricordiamo anche che la fondazione ospita già il Fondo per l'Ambiente Italiano, quindi il FAIA sede qui come punto di segreteria, e adesso da luglio ospitiamo anche loro. Iniziano già dall'agosto di quest'anno la collaborazione sugli Scopri Arezzo, che sono un importante progetto che il centro guido ormai ha in sé da anni, che lo ha dirottato anche all'interno della Casa Museo, ma oltre a questo ci sono tantissimi altri progetti in conto. Cosa vi aspettate da questa collaborazione? Di sicuro tantissimi turisti che verranno a visitare la Casa Museo, tutti quelli che proprio loro riescono a dirottare in città. Anche la Casa Museo Ivan Bruschi sta seguendo la banca tirrenica nella fusione con UBI, che si completerà lunedì 27 novembre. Nonostante si tratti di un passaggio delicato, all'interno della Casa Bruschi si percepisce una progettualità nel segno della continuità, come se, quanto accade fuori, non riuscisse a scalfire in alcun modo il valore di queste mura e delle collezioni di Ivan Bruschi.